Ciao Simona, so che hai girato tante squadre, hai giocato in tante città, come ti sta inventando a Torino? Mi trovo benissimo, ho giocato in tante squadre, ho vestito tante maglie, ma credo che la più prestigiosa sia quella che ho visto quest'anno, la Juve. Quando ti hanno detto dell'interesse della Juventus, come hai reagito? Ero a Stintino ed ero al telefono. Subito dopo la telefonata ho fatto una mega corsa e mi sono buttata in acqua dalla gioia. So che hai segnato nel derby e quindi complimenti, c'è qualche partita speciale nel campionato in cui vorresti segnare? Mi sembra un piacere segnare nel derby e in campionato il prossimo che farò sicuramente sarà particolare. Quale gesto tecnico ti riesce meglio? Non mi dire il tunnel perché a noi difensori fa parecchio arrabbiare. Ed è proprio quello che mi piace invece, però va bene dai, allora passiamo alla rovesciata. Come mai hai scelto di fare l'attaccante perché poi se finisce 0-0 danno la colpa a terra? Certo, però quando segna sicuramente tutti sono contenti. Ciao Simona e fino alla fine... Forza Juventus!